Siamo all'interno di un bellissimo giardino qui a Milano Marittima, da chi è stato creato questo giardino? Questo giardino è stato fatto dall'Escola del Centro di Formazione di Apprenti di Vutozac, che si situa nel departamento della Corese, in regione Limousin. Un giardino che si ispira alla vita del bambino, dall'infanzia all'adolescenza. Com'è diviso questo giardino? Siamo partiti da un progetto che abbiamo fatto lo scorso anno, dove c'era come punto centrale una statua, quindi la donna e la femminilità. Abbiamo portato avanti quest'anno il progetto partendo dalle quattro fasi, dalla nascita fino all'adolescenza, coinvolgendo gli studenti che hanno fatto questo progetto a scuola, si hanno suddiviso in diversi gruppi, hanno progettato, hanno pensato delle frasi in francese, hanno pensato anche delle frasi in italiano e questo è tutto il percorso di questi quattro passaggi dall'infanzia all'adolescenza. Ma in questo giardino ci sono anche delle poesie, quali poesie troviamo? Deciso di scegliere un autore francese, Victor Hugo, e un autore italiano, Pierpaolo Pasolini, quindi nel percorso troviamo anche poemi di questi due autori. Abbiamo il particolare che ogni alunno ha contribuito con una foto e qui vediamo l'alunno che ha portato la foto di quando frequentava le scuole elementari e adesso ha partecipato come studente progettista, nello stesso tempo giardiniere.